Sono terminati i lavori di 33 alloggi in tre edifici diversi dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale della provincia dell'Aquila, l'Ater. Si tratta di tre immobili fortemente danneggiati dal sisma del 6 aprile, praticamente sia in tutti in via di conclusione dei lavori. Così inquilini e proprietari potranno finalmente dopo 13 anni tornare a casa, ma anche la ricostruzione delle case Ater inevitabilmente risente della crisi a livello nazionale generata dall'aumento dei prezzi dei materiali, come conferma il presidente Ater, Isidoro Isidori. A gestire l'appalto intanto delle palazzine riconsegnate è stato il provveditorato interregionale alle opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna. L'immobile in via Montemorrone, costituito da sei appartamenti, di cui due di proprietà privata, è stato restituito al presidente. I lavori erano iniziati nel giugno del 2019 e hanno previsto la demolizione della struttura e conseguente ricostruzione. Il finanziamento cibo e complessivo è stato di 978 mila euro circa, di cui 740 di competenza del provveditorato e 237 mila di competenza Ater. Nelle prossime settimane ci saranno altre riconsegne. Per molto tempo la ricostruzione residenziale pubblica è stata sotto accusa per i ritardi accumulati. Ora il presidente Isidori ha spiegato che stanno cercando di velocizzare più possibile le pratiche e le riconsegne per recuperare una situazione che ha sempre specificato hanno ereditato. Il nuovo corso dunque si sta impegnando. A breve, entro tre mesi, saranno riconsegnati altri appartamenti, ad ottobre altri ancora, per imprimere maggiore velocità e rispettare il cronoprogramma. Ma la crisi dei materiali mette in crisi i cantiere, questo sì. Con la riconsegna di ieri, d'accordo con il provveditorato, abbiamo iniziato intanto a ridare vita a Valle Pretara, su cui ci sono stati diversi ritardi non imputabili a questa gestione e abbiamo a brevissimo, nell'arco di tre mesi, la riconsegna di altri 50 appartamenti almeno, mentre, e questo dovrebbe accadere entro luglio, e si tratta di quattro palazzi diversi, mentre entro settembre-ottobre dovrebbero riconsegnarne altre 30. Abbiamo cercato di dare, di imprimere una svolta alla riconsegna degli appartamenti, perché ci rendiamo conto delle esigenze dell'Aquilano e dell'esigenza di rientrare negli appartamenti. C'è un problema di fondo adesso, c'è l'incremento dei costi di produzione, per cui le imprese che stanno lavorando con i computi metrici e con i preventivi fatti addirittura nel 2009, con i progetti che sono stati approvati all'epoca, reclamano talune delle difficoltà sia per l'approvvigionamento e sia soprattutto per i costi sopravvenuti. Ma questo è un problema che a livello nazionale stanno già cercando di affrontare e i recenti provvedimenti del Governo in tal senso sono la dimostrazione del problema e del tentativo di risolverlo. ATER sta cercando di sgrossare, come abbiamo detto, sia i lavori già in corso per la ristrutturazione e sia con il superbonus la definizione della riqualificazione di interi quartieri. A breve partirà un avviso pubblico per 9 maxi lotti, ciascuno almeno da 5-10 milioni di euro per il superbonus, per ricostruire Monticchio, per ricostruire Sassa, per ricostruire Scoppito e tutti i comuni e anche nella provincia dell'Aquila che sono stati interessati dal Sisma perché su quegli immobili è possibile che il superbonus si estenda fino al 2025. Stiamo cercando di accelerare i tempi ma i lavori sono complessissimi.